Come sapete ogni venerdì vado a provare uno dei vostri videogiochi e oggi vado a provare un videogioco molto diverso dal solito è un videogioco multiplayer e sto vedendo che effettivamente non ci sono persone per poterlo giocare ma possiamo comunque avviare il videogioco, valutarlo perché è una cosa che comunque volevo portare qui su questo canale vi ricordo però prima di iniziare delle cose importanti la prima è che se volete mandarmi un videogioco creato in qualsiasi engine beh, link in descrizione per compilare il form e così vedrò di portare nelle prossime puntate uno dei vostri videogiochi la seconda cosa molto importante è che andiamo ogni sera alle ore 21 in live su Twitch lo sapete bene, link nella descrizione Luca Giacomelli, lo sviluppatore di oggi, ha realizzato in un mese utilizzando Unity questo videogioco Hyde Royale che voglio innanzitutto riavviare perché come state vedendo c'è il caricamento di Unity è quello che potete vedere, piccola animazione molto bella a dire il vero Luca Giacomelli posso anche mettere in fullscreen in questo caso prima però di analizzare tutto il videogioco andiamo a vedere cos'è Hyde Royale Hyde Royale, per chi non lo conoscesse, è il classico nascondino ha voluto realizzare Luca, questo videogioco totalmente 2D realizzato in Unity un gioco multiplayer, un nascondino e cosa ha fatto? Ha creato così il menu principale molto di impatto quindi invece di cliccare play e poi portare l'utente a scegliere il nome direttamente scegliere il nome nel menu principale questa soluzione secondo me è ottima però cosa succede? Che se io clicco play senza ad esempio inserire un nome ottimo che ha messo il punto esclamativo dal punto di vista grafico c'è poco da dire e credo che sia perfetto ha un suo stile, forse l'unica cosa che avrei cambiato è il CSS del label qui però non so adesso con Unity quanto fattibile sia quando si esporta in WebGL in basso a sinistra e in basso a destra troviamo dei bottoni non importanti infatti hanno anche questo colore che effettivamente non si notano subito a un lato troviamo credits dove si apre sulla destra questa schermata credits con su scritto seguimi su Instagram e poi feedback created by Luca Giacomelli non so cos'è questo feedback, ok è un bottone e ti dà la possibilità di compilare questo form quindi ottima questa cosa mi piace, hai fatto veramente un ottimo lavoro cosa importantissima però come avete visto mi è stata aperta la pagina nella stessa finestra del videogioco, molto importante basta che metti target blank, underscore blank e apri quella pagina in una nuova finestra altra cosa secondo me qui si capisce ben poco che dobbiamo proprio cliccare in quei punti cioè nel senso follow mio Instagram, ok io clicco sull'icona Instagram però non si capisce qui feedback che è un bottone quindi cerchiamo di dare un aspetto estetico ai bottoni ci sta in questo caso nel menu principale perché non c'è nulla è tutto spogato dietro quindi va benissimo ma in quel caso secondo me non va affatto bene una volta che però apro il menu dei credits quello che succede come possiamo vedere se clicco in giro a sinistra, a destra o tutte le altre parti dello schermo non mi va a uscire dai credits quello che dobbiamo fare è ricliccare sulla scritta credits molto difficile da individuare non si capisce a primo impatto, quello che consiglia lo sviluppatore di oggi metti la classica scritta back e cerca di evidenziarla quindi con un colore bianco la stessa cosa succede per il setting infatti troviamo qui un menu molto diverso esteticamente se prima Luca ha utilizzato il colore verde sulla destra per il menu credits però devi riutilizzare proprio quella palette colori invece qui troviamo una palette colori molto diversa troviamo questo verde super acceso questi pallini che non sono perfettamente sferici ma sono un po' schiacciati ecco anche il font music sfx cose che effettivamente vanno cambiate anche qui non c'è una x ma quello che bisogna fare ecco qui ho scoperto un piccolo bug che se clicco settings e clicco credits ovviamente si bugga e vado a cliccare tutti e due adesso ritorna vado a mettere il mio nome in Samuele clicco il bottone play ed eccomi qui all'interno della selezione del personaggio ottima questa cosa posso scegliere diverse skin io vado a scegliere questo personaggio clicco su go ed eccomi proprio nella sezione in cui posso creare una stanza o gioinare in una stanza in questo caso sulla destra non c'è nessuna stanza quindi vado a creare una mia classica stanza Samuele e vado appunto ad entrare ora non posso nel dettaglio analizzare e recensire questo videogioco perché purtroppo mancano le persone per poter giocare come abbiamo visto abbiamo dato all'utente la possibilità di scegliere il nome però sulla destra appare un Samuele 952 questa cosa secondo me a priori dovrebbe essere comunicata al giocatore nel senso che Samuele già esiste o è già esistito quindi non puoi chiamarti Samuele ma dovrai chiamarti Samuele 952 perché in quel caso se fosse già esistito gli avrei cambiato in Samuele 1997 che è il nano mio di nascita oppure semplicemente Samuele SC o Dev Developer qualsiasi altra cosa queste sono cose molto importanti purtroppo quando si crea un videogioco di questi dove c'è soltanto la modalità multiplayer è molto limitante il tutto è molto limitato perché come possiamo vedere non possiamo giocare qui in alto a sinistra credo che sia semplicemente il numero degli utenti massimi in alto il tempo che ho per nascondermi o forse della partita in basso a sinistra la mappa però non c'è nulla di nulla quello che possiamo vedere è giudicare ovviamente tutta la parte grafica del videogioco hai fatto un ottimo lavoro perché possiamo nasconderci dietro gli alberi possiamo entrare all'interno delle case in questo caso quindi figa questa cosa ecco quello che ti consiglio è ad esempio lui ha dato la possibilità di entrare in queste case e ci possiamo nascondere in questo caso nell'ombra di questa stanza quindi molto bella l'idea ma quello che avevo scoperto è che ci sono delle skin che secondo me non sono poi così tanto ottimizzate per nascondino se io mi nascondo qua dietro si vedono le corna del caschetto o se vado qui non so se adesso devo cliccare ecco anche qui da nessuna parte mi vengono spiegati quali sono i tasti da utilizzare questo potrebbe un po' limitare se diamo all'utente la possibilità di entrare nelle case devono esserci secondo me delle possibilità dal punto di vista user experience o comunque del videogioco di nascondersi o all'interno degli elementi quindi armadi o robe varie che poi l'avversario può aprire e così via o semplicemente come abbiamo visto in altre stanze la possibilità di nascondersi dietro cespugli e così via che dire per il resto il videogioco secondo me è ottimo purtroppo non c'è modo per poterlo giocare forse lo proveremo in live magari con qualche persona sicuramente uno può anche nascondersi qui in un angolo a destra ecco ho scoperto anche un piccolo bug che possiamo metterci in mezzo all'oceano e nessuno mai ci trova per il resto credo che sia anche un accesso anticipato e ottimo lavoro mi piace anche il fatto che non ci siano le collisioni va bene però le collisioni per non andare nell'oceano secondo me è una cosa che vanno inserite per il resto il videogioco secondo me ha delle basi pronte ha delle basi molto interessanti e quindi tirando le somme quello che posso dire è complimenti Luca per aver creato questa demo non interrompere lo sviluppo o nel senso sarebbe proprio un peccato quello che ti posso consigliare io è la possibilità all'utente di potersi nascondere in più spazi magari diminuisce la mappa ma cerca di giocarlo con delle persone per capire soprattutto se l'utente vuole giocare a questo videogioco una cosa ah qui le collisioni ci sono ecco una cosa che inserirei molto importante è che l'utente può giocare anche in single player perché come abbiamo visto purtroppo quando si creano i classici giochi .io ad esempio paper.io e così via quello che può succedere è che se non ci sono utenti il gioco non ha senso che viene giocato ecco ci sono a dire il vero molti di questi giochi non è vero che sono online sono tutti bot è un fake online questa cosa si utilizza in questo caso poteva anche starci creare delle room fake dove se entravi in quelle room semplicemente partiva la partita aspettavano me o era già iniziata sono anche consapevole che creare un bot non è affatto semplice per il resto questo è il videogioco di Luca volevo comunque portare perché secondo me ha creato un prodotto interessante comunque che potrebbe avere un minimo sicuramente ci sono altri giochi di questo genere e non male esteticamente secondo me rispetto agli standard secondo me va benissimo a livello audio c'è quella canzone che va in loop che adesso voi non sentite perché ho interrotto ecco quando clicco esca che qui esteticamente cerchiamo di mantenere gli standard questa scritta exit a metà si distaccano alcune grafiche anche qui la scritta in piccolissimo che poteva essere anche suddivisa su due righe e il bottone magari con un testo un po' più grande però sono anche consapevole che magari durante le esportazioni molte di queste cose non vengono neanche viste clicco sul bottone yes e non torna neanche indietro soltanto dopo un po' qui in alto a sinistro penso che posso vedere il numero di giocatori online attualmente mi dice che sono due giocatori online anzi uno e credo che sono soltanto io questo è il videogioco di Luca come possiamo vedere ci sono ovviamente sempre dei feedback che do relativi al menu principale ma anche il bottone per attivare e disattivare l'audio no non è vero c'è a dire il vero possiamo decidere di abbassare e aumentare i suoni ero molto curioso di provarlo il videogioco quindi di vedere la parte di gameplay però finora quello che posso giudicare è la parte estetica e funzionale del videogioco stesso purtroppo chiaro un videogioco dove l'elemento principale sono i giocatori e mancano è un gioco ingiocabile è un gioco che non ha senso giocare in quel caso quindi quello che consiglio è di mettere dei bot e questa cosa ovviamente può servire per tutte quelle persone che vogliono creare un gioco pvp benissimo date la possibilità all'utente di poter giocare con gli amici o con avversari random che trovano online però quello che consiglio è che se sto facendo un gioco pvp e potrei non avere utenti all'interno del mio videogioco bene almeno diamo la possibilità di giocare con dei bot quindi che l'utente sa che sono dei bot oppure fake personaggi veri ragazzi questo era i vostri videogiochi non so abbiamo superato l'episodio 100 se vi è piaciuto questo video lasciate un mega pollicione in su noi ci vediamo con ogni giorno con un nuovo video e allora ci vediamo domani ciao ciao